Andiamo a Torino, Pier Giorgio Odifreddi, in cammino alla ricerca della verità, lettere e colloqui con Benedetto XVI. Un minuto per presentare il suo libro, professore Odifreddi. Il sottotitolo dice esattamente quello che il libro è, cioè i resoconti di alcuni incontri che abbiamo fatto circa una volta l'anno dopo le sue dimissioni, finché è arrivato il Covid, e poi tantissime lettere, ciascuno naturalmente col suo stile, io un po' più logorroico e lui invece molto più contenuto. E credo che l'interesse, ammesso che ci sia, per quanto riguarda me, è il fatto che Benedetto XVI ovviamente è un papa, è merito, è un credente, è stato il capo di una chiesa. Io sono l'esatto contrario, sono un non credente, un ateo dichiarato, poi lui è un umanista, un famoso teologo, filosofo, io sono un matematico, quindi due mondi completamente agli antipodi. E l'idea è che si possono trovare tanti argomenti di conversazione, anche quando non si è d'accordo su tante cose. Quindi questo può essere, non dico un insegnamento, ma forse un piccolo esempio, soprattutto in questi tempi in cui gli accordi tardano a venire, sia in politica interna che in politica estera. Ecco, in cammino alla ricerca della verità, ma c'è sempre una ricerca della verità o prima o poi si arriva alla verità? Difficile, difficilissima. Ma io credo che tutti e due gli autori pensino e credano di avere loro la verità e che l'altro si sbagli. Naturalmente il problema è capire chi dei due ha ragione e chi dei due ha torto. Poi però magari alla fine il percorso è proprio quello di capire che magari ci sono delle verità con la V minuscola, ma la verità con la V maiuscola come c'è nel titolo, che tra l'altro è stato scelto da Ratzinger stesso, perché è un'espressione che gli piace molto questa, di dire che siamo tutti in realtà in cammino alla ricerca della verità. Quindi io credo appunto che però sicuramente la scienza ha le sue verità, sono verità in realtà di ragione e la religione ha invece le verità di fede e le due non vanno tanto d'accordo, credo. Professore Odifreddi, tutto questo perché questo suo libro appunto in cammino alla ricerca della verità rappresenta davvero un esempio eccezionale di dialogo tra fede e scienza. Lei nell'arco di nove anni, voglio dire dal 2013 ad oggi, il pave merito Benedetto XVI e Pier Giorgio Odifreddi, matematico tra l'altro ateo, si sono incontrati più volte, vi siete incontrati più volte di persone e avete intrattenuto un'intensa e profondissima corrispondenza epistolare. Lei racconta tutto in questo libro. Vuole raccontarci qualcosa anche questa notte a noi, professore Odifreddi? Sì, in realtà il libro è nato per conto suo perché sicuramente non era pensato, soprattutto le prime volte che andavo a trovarlo. Io in realtà avevo già scritto un libro che si intitolava Caro Papa ti scrivo, che era un commento al suo libro più famoso, il suo di Ratzinger, che si intitolava Introduzione al cristianesimo. Però era fatto sotto forma di lettera, però era semplicemente un escamotage letterario, cioè io non pensavo che l'avrebbe mai letto. Invece quando poi si è dimesso gliel'avevo fatto avere e in realtà cosa fa un Papa in pensione? Non si sapeva all'epoca, era la prima volta che succedeva dopo secoli. E in effetti credo, forse per prendere distanza anche da tutte le cose che l'avevano poi portato alle dimissioni, magari ha trovato un momento di sollievo. Infatti poi mi aveva risposto con una lunga lettera, che è quella poi che apre praticamente il libro, a parte semplicemente i prodromi iniziali fra me e padre Gansvein. E poi una volta che c'era questa lettera, anzitutto gli ho chiesto se si poteva pubblicare come appendice al mio libro. E non solo loro hanno detto sì, perché all'epoca poi non ci parlavamo direttamente, ma mi hanno detto no, dovete firmarlo a due mani o a quattro mani, come si dice. C'è anche un episodio divertente se si vuole chiamare così, perché poi la Mondadori mi telefonò un giorno e mi disse, senti per la copertina il Papa ha mandato il suo stemma, naturalmente le chiavi con la tiara, con il triregno, dice qual è il tuo? Io sono stato preso un po' alla sprovvista perché non avevo uno stemma, mi sono scelto la stella pitagorica sul momento. Poi però di lì è nata l'occasione di portargli questo libro a far vedere e ci siamo incontrati e credo, tutto sommato, sicuramente da parte mia e forse anche da parte sua, altrimenti non saremmo andati avanti, non dico che ci siamo piaciuti, ma abbiamo capito che forse le polemiche sulla fede e sulla ragione, va bene, le avevamo sviluppate, sviscerate, ma si poteva parlare d'altro. E abbiamo parlato di quello di cui parlano tutte le persone normali, cioè la vita, la morte, poi tra l'altro l'ultima parte del libro, che è forse la più umana da un certo punto di vista, la meno intellettuale e costruita, è proprio l'anno orribile del 2020, in cui tutti abbiamo vissuto la tragedia del Covid, lui, benedetto sedicesimo, ha perso il fratello a cui era legatissimo, io ho perso mia madre e allora lì i toni cambiano naturalmente e la teoria, quando si discetta su queste cose, io in precedenza gli avevo mandato una lunga lettera sulla morte, come la vede un ateo, di modo da far vedere a un credente come gli atei la pensano, e poi naturalmente quando si arriva al dunque le cose cambiano molto. Quindi poi alla fine però mi sono quasi ritrovato tra le mani un libro e gliel'ho detto, l'ho stampato dopo tutti questi anni, gli ho detto guardi qui ce n'è una coppia, se lei permette ne facciamo anche altre, altrimenti rimane così, non era nato. E anzi devo dire la verità che a volte quando lo presento sono anche un po' in imbarazzo perché non essendo appunto stato scritto con l'intenzione di pubblicarlo, a volte uno si lasciava anche andare a dire cose che non solo non avrebbe detto in pubblico ma meno che mai avrebbe pubblicato. E quindi insomma è una cosa molto personale, è un libro strano anche perché appunto non essendo nato come libro forse non ha nemmeno la struttura esattamente del libro. Sentiamo Marco De Marco da Napoli, Lorella, Claudia Ridenti, da Milano, Laura Valle, via Skype. Marco De Marco, Napoli. Allora sì, sicuramente è un libro disorganico, ma come spesso succede i libri disorganici, cioè quelli che non nascono per essere libri, sono quelli più imprevedibili, più ricchi, più anche interessanti. Questo libro intanto è un'enciclopedia, ha un valore in sé ma ha un valore anche che rimanda a tante cose, storie, concette, idee, e quindi è un libro che va letto, va tenuto a portata di mano. Ma quello che mi colpisce di più, perché sono tantissimi gli argomenti, quello che mi colpisce di più è il metodo, cioè è anche il valore scelto per questo metodo, cioè la franchezza. È impressionante il modo in cui il Papa risponde alle obiezioni di Odi Freddi, cioè in parole povere alcune volte gli dice sì, condividiamo su questo concetto, siamo d'accordo, però per esempio sull'Islam gli dice, caro Odi Freddi, guardi io ho studiato molto la storia delle religioni, lei su questo non ha capito quasi nulla, oppure su un altro argomento e dice vabbè su questo forse è meglio che non parliamo, per esempio sulla storicità dei miracoli, capitolo molto bello, perché tra l'altro fa capire una frase di Wittgenstein, cioè delle cose di cui non possiamo parlare è meglio tacere. Qui si capisce che cosa voleva dire quella frase, perché il Papa dice, vabbè di questa storia è la storicità dei miracoli, cioè se sono veri o non sono veri è meglio che non parliamo e colpisce anche, a parte l'immensa cultura di Odi Freddi, ma faccio solo questo riferimento e basta, colpisce anche l'ignoranza del Papa, cioè il Papa che ammette di non sapere le cose e quindi chiede informazione. Tutto questo in qualche modo ti avvicina a questo sapere davvero sconfinato e smarginato, dall'altro un po' ti fa sentire piccolo piccolo rispetto a tante riflessioni, ma per questa ragione è un bellissimo libro. Laura Valle, che ci dice sul libro di Odi Freddi? Libro appassionante per gli argomenti trattati e anche per lo stile, mi sento di consigliarlo a chi può essere interessato, un dialogo amichevole, attretto anche affettuoso tra la massima autorità religiosa e uno scienziato non credente, ma colto, intelligente e assolutamente rispettoso. Forse l'alter ego del suo autore, in quanto mi risulta che il professore sia ateo, ma mi risulta con un'altrettanta vasta conoscenza del pensiero di varie religioni? Sentiamo anche Lorella Claudio Ridenti e poi sentiremo il professore di Frenti. Lorella. Beh, è un libro che è una fonte inesauribile di riflessioni e di spunti. Io l'ho dovuto leggere abbastanza velocemente, dovendo venire qua ed essere preparata a parlarne, però mi sono ripromessa di rileggerlo, perché ci sono davvero dei capitoli, perché intanto parlano di massimi sistemi, di cose, di interrogativi, di argomenti che ci interessano moltissimo, ma in maniera limpida, vera, e riescono anche a fare luce perfettamente, dando i due punti di vista diversi, ma è un confronto vero, sano, costruttivo. Mi è piaciuto moltissimo e quindi, appunto, come l'ho detto, voglio rileggerlo per capire meglio alcune cose di cui parlate. Professore Di Freddi, ha sentito queste tre analisi? Sì, ho sentito. Forse l'unica cosa a cui posso rispondere, a parte ringraziare, appunto, per i complimenti, è il fatto, sì, sull'interesse per la religione. Le religioni sono cose estremamente interessanti. Io ho viaggiato anche molto, non come Ias Gavronsky, però anch'io sono stato, per esempio, 18 anni negli Stati Uniti, due anni in Unione Sovietica e poi in giro per il mondo. Ma dovunque vado, e soprattutto nei paesi, tra virgolette, esotici, la cosa forse più interessante che uno trova è proprio quello. Andare nei templi, andare nelle chiese, nelle sinagoge, nelle moschee e così via, leggere la teologia, la storia, e poi spesso la storia di tanti paesi è una storia anche di costruzioni, di istruzioni a base religiosa. Però l'ateo, diciamo così, o il razionalista, queste cose le vede, ma magari come se leggesse la letteratura o andasse a vedere dei cinema, no? Quindi mi piace molto interessanti di religione, ma non le prendo seriamente nel senso di credere a ciò che dicono. E credo che il Papa, in effetti, avesse cominciato proprio con questa, con quest'ottica, perché ricordo che padre Lombardi, che è stato per dieci anni prima il portavoce di Benedetto XVI e poi di Papa Francesco, io lo conoscevo perché è laureato anche lui in matematica, padre Lombardi, e ha studiato qua a Torino, tra l'altro nella stessa facoltà, pochi anni prima di me, ci siamo incrociati lì all'università. E mi ricordo che quando ricevetti la prima lettera da Benedetto XVI, ero un po' stupito, soprattutto anche della lunghezza e della profondità, diciamo, delle obiezioni, e l'ho chiamato, Lombardi, e gli ho detto, sa, ho ricevuto una lettera, e lui mi ha detto, sì, lo sapevo, perché dopo che si è dimesso sono andato a chiedergli che cosa faceva dopo che era tornato in Vaticano, e lui gli aveva detto, rispondo a Dodi Freddi, e padre Lombardi gli aveva detto, ma lo sa chi è, no, questo è un ateo, no? E stando a padre Lombardi, Benedetto XVI gli aveva detto, sì, ma questo è diverso, cioè forse ha capito che è vero, era un ateo, non credo e non credevo, però aveva un interesse sincero per le questioni religiose e anche un minimo di conoscenza, no? Quindi questo forse rende più facile il discorso, certo che se uno va, a completamente digiuno, oppure aggressivamente a cercare di catechizzare un Papa, si va poco lontano, no? Chissà cosa avrebbe risposto Papa Uitiva, Iash. A quale domanda? A questo che diceva il professore Di Freddi da Torino. Il professore ha scritto un libro veramente bellissimo, credo che sia stato fortunato, perché una cosa è parlare con le persone, parlare con un Papa, un'altra cosa, credo, molto più emozionante è ricevere una lettera, un scritto o qualche cosa, e poi sentendo tutto questo discorso mi viene in mente, mi è venuto in mente come questa enorme differenza che c'è stata fra gli ultimi tre Papi, sono tre versioni diverse di interpretare quella missione, di interpretare quello che c'è da fare, eccetera. Quindi è una cosa che veramente spinge alla riflessione. Ecco, professor Rebuzzi, il Papa in genere è un frequentatore del Polichinico Gemelli, che l'ha vista protagonista e la vede protagonista per tanti anni, ha sentito tre Papi, tre modi diversi, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio scientifico. Sull'ultimo Papa non posso parlare. Su Giovanni Paolo quello che mi ha impressionato era la determinazione. Lui era una persona molto determinata, quello che faceva lo faceva con grossa forza di volontà. Su Benedetto XVI quello che mi ricordo e che posso dire per me era sicuramente un grandissimo Papa, un grosso teologo, quello che gli mancava rispetto a Giovanni Paolo era la capacità di comunicazione, o perlomeno la capacità di comunicare con le masse. Io mi ricordo in Australia le giornate mondiali della gioventù, no? Quando ci furono quelle che fece Papa Voitiva, vi ricordate? Tutti ci ricordiamo che faceva la ola con i ragazzi. Benedetto XVI parlò a dei ragazzi di sera, parlando della triplice figura dello Spirito Santo, che parlato in inglese da un tedesco e dei ragazzini dagli 8 ai 14 anni non era proprio alle 9 di sera, però era sicuramente, per lo meno per quel poco che lo posso aver visto, una persona molto, molto, molto... Perché sono stati anche pazienti del Policlinico Gemelli. Sì, il fratello, quello di cui parlava Odifreddi, è stato paziente al Gemelli, ha messo il pacemaker e mi ricordo che andammo a controllare il pacemaker d'estate nella casa lì vicino Roma e lo trovammo il Papa che stava suonando al pianoforte, tra l'altro molto bene. Emanuele era molto attento a queste situazioni che riguardano tre Papi. Beh, sì, parliamo della storia, non parliamo di personaggi. Mi ha colpito molto questa unione tra l'umiltà e il coraggio, l'umiltà di mettersi in gioco avendo il coraggio naturalmente delle proprie idee, delle proprie posizioni, ma anche con qualcuno evidentemente che è, come dire, forse completamente diverso o forse quella ricerca della verità di cui si parlava prima rende più vicini anche due persone che hanno almeno apparentemente tutto da dividere. Ecco, prima di leggere un passo, Eleonora, colloqui e corrispondenza tra un Papa teologo e un matematico ateo. Questa premessa potrebbe far pensare a dei duri scontri, professor Odifrendi, a posizioni inconciliabili. Non sono andate così le cose? Beh, ma in parte perché poi abbiamo appunto deciso di non parlare di quelle cose lì. Una volta che si era assodato che eravamo su posizioni diverse, lui quello che doveva dire sulla fede e sull'atteggiamento dell'ateo l'ha detto nella prima lunga lettera, in cui tra l'altro, come si diceva ad un certo punto, ha preso delle posizioni molto dure. Lui mi aveva detto, lei è stato molto duro e franco con me, accetterà che io lo sia anche con lei. Quindi, insomma, non dico che mi ha preso a schiaffoni, ma metaforicamente ci siamo un po' combattuti. Dopodiché invece è subentrata appunto la curiosità. Lui tra l'altro è una persona molto curiosa. Mi diceva che anche quando era professore all'università, quando era in Germania, frequentava ad esempio scienziati, aveva conosciuto von Feizzecker, che era il fratello del presidente tedesco ed era uno dei grandi fisici del Novecento. era molto orgoglioso di dire che aveva studiato nella stessa università di Heisenberg. E quindi, in realtà, l'idea che la scienza e la fede non fossero lontane c'era. Non è lui che ha scritto l'enciclica Fides et Razio e Giovanni Paolo II, però l'idea è quella, che le due cose in fondo sono compatibili. E da un certo punto di vista lo sono proprio da quell'aspetto di verità di cui si diceva prima. tutte e due cercano la verità con mezzi diversi e magari trovano verità diverse, appunto perché usano modi diversi di cercarla. Eleonora, leggiamo un passo del libro di Pier Giorgio Di Freddi, In cammino alla ricerca della verità. Eleonora, Puglia. Lui ricorda di essere entrato in seminario a 12 anni, più o meno il periodo in cui io ne sono uscito. Gli dico che ora, col senno di poi, ho capito che non avrei voluto diventare Papa, meglio Ministro della Cultura, come il Cardinal Ravasi. Per cui in quel posto si hanno tutti i vantaggi e nessuno degli svantaggi.